Ma si può che avete fregato tutti i giochini delle bimbe, voi due? Eh? Wey, pelosi! Questi sono delle bimbe! Tutta la cuccia piena! Come potete vedere, la nostra mitica Laura Barelli sta apparecchiando il suo piano di lavoro in Trenitalia. Questo è il nuovo metodo di lavoro. Tutti vanno in treno con dei bigodini meravigliosi come questo. Ragazzi, cioè, chi sta riprendendo è Gabriele Barelli. Perché c'è il tronco? Quindi è un video messaggio importantissimo. Domani sera Costanzo Show, vi aspetto, eh? Poi ci sono degli ospiti pazzeschi. Amici, si sta comprodendo questa bellissima avventura. No, posso dire una cosa? Eh? E' stato un bel aggiornore, peccato per Pucci. Povero Andrea Pucci. Beh, è il nome di Pucci, guarda. È la dieta, Pucci! Pucci! Andrea! Non potevamo esimerci dal festeggiare lo chef e la sua brigata. Vela, vela, grandi! Fatevi un applauso! Grazie! Buongiorno a tutti, oggi sono molto intellettuale, infatti alle due vi incontrerò tutti presso l'auditorium del museo Leonardo da Vinci per presentare il mio libro per la prima volta proprio con libro firma, come nei f***i. Lilli, tu non ce la fai a svegliarti oggi, eh? Capisco che è domenica, ma dobbiamo andarci a preparare. Lilli, date una mossa, Lilli. Dai, dai su, dai, dai. La prima cosa che fanno è accoglierti, darti un sacco d'affetto, attenzione totale. Tu li puoi chiamare in qualsiasi momento della giornata, della notte. In America lo chiamano love bombing. È proprio una strategia. Nenzo, piacere. Sì. Tu guardami la fortuna. Cosa che vi ho detto? No, non ci siamo a mattina. No, non ci siamo a mattina. No, non ci siamo a mattina. I libri? Sì. La fotografia o è? La fotografia. Ma buon lunedì a tutti! Uela, uela! Cioè, ma guardate il bernoccolo qui di stamattina. Mi sono data una testata contro l'armadio di quelle proprio... E non so più come mi chiamo.